Mi chiamo Valérie, sono francese, vivo a Città di Castello da 23 anni ormai e sono molto contento di vedere la mia patria invitata al Festival delle Nazioni, tutti gli anni io partecipo al Festival delle Nazioni ma quest'anno sono particolarmente contenta. Parliamo del programma, benissimo, le sorelle La Becche che sono una garanzia, un cognome, due nomi, una garanzia, è vero che sono anni e anni che le conoscevo già quando ancora ero in Francia. Un altro spettacolo che mi piace moltissimo è Roquia Traoré che è più giovane però anche lì per i giovani è una voce meravigliosa. Io parteciperò allo spettacolo con Catherine Spack che non conosco come francese ma come francese espatriata perché in Francia non credo che sia molto famosa però anche in Italia ha dato il suo. Vi voglio segnalare anche nel Festival del Chiostro le fiabbe della Buonanotte che sono un cappuccetto rosso, un barba blu che sono di Charles Perrault che sono fiabbe insegnate ai bambini francesi fin dalla tenera età. Non vorrei fare come la Brigitte perché l'ho vista ma buongiorno a tutti gli expatriati. Grazie 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 Grazie